Andrea, Andrea, si è sposato poco tempo fa, non so se si è sposato a giugno o a luglio. Allora, io uso questa qua piccoletta. Allora, allora, io non lo vedo, non è? Non la do te va, no? Prende la spitta segura. Adesso, non lo vedo, non è? Adesso, non lo vedo, non lo vedo. Diciamo... ...diciamo... 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 610, 510, 945, 30, 45, 32, 3h I telemotori controllo ordinario 963, 3, 3, 2, 75 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.